eh certo mi serve da bere sono rinato e ci sono due bestie ardenti sopra la mia testa olè è inutile, no, troppo tardi, sono già in pericolo bello questo start no, le bestie ardenti sono rinate per un tizio al 29 che è vicino a me però sono entrato nel server e letteralmente c'erano due bestie ardenti sopra di me che volavano che bello, poi non è sparita nel nulla